è vero che sta piovendo ma è altrettanto vero che i lavori stanno andando avanti siamo un buon punto e comunque il canale ha già avuto tutto il suo aumento di portata abbiamo anche raddrizzato tolto una curva che era veramente un rallentamento dello scorrimento delle acque anche questo è un grosso lavoro grazie